Assessore Tarsi, siamo alla fine ormai della stagione turistica. Una stagione collegata ovviamente con le iniziative culturali, che sono parte predominante anche della stagione turistica. Può farci un consuntivo di questi due mesi di alta stagione? Sì, sono stati due mesi in cui ho preso conoscenza della situazione che ho in qualche modo ereditato dall'amministrazione precedente. Un'organizzazione dell'estate che sicuramente ha manifestato qualche criticità e sulla quale poi dovremo lavorare per la prossima stagione estiva. Ed è sicuramente molto interessante la possibilità di utilizzare questi beni come richiamo per i turisti. Ci sono dunque delle novità per il prossimo anno, c'è una programmazione diversa anche per quanto riguarda gli eventi? Stiamo già lavorando insieme alla Giunta la possibilità l'anno prossimo di rendere più facile la fruizione dei nostri beni. Ci sono delle realtà come per esempio San Pietro in Valle, come anche San Francesco e sono molto gettonate, molto richieste dai turisti che vengono a Fano apposta per vederle. E poi si trovano le porte chiuse. Quindi dobbiamo lavorare perché nel corso di qualche mese si riesca a rendere fruibile l'accesso a questi grandi beni, a queste grandi risorse, in modo per la prossima stagione estiva da poter studiare un'organizzazione all'interno della città tra il sistema museale, i beni monumentali, le chiese, ricordiamo anche la nostra Santa Maria Nuova, Fano Sotterranea che è anche questa, quando i visitatori accedono alla Fano Sotterranea, che sia sotto la Mediateca Montadario, che sia sotto Sant'Agostino, rimangono stupiti per la bellezza. Ecco, dobbiamo fare in modo che i nostri beni monumentali siano aperti al pubblico durante tutta la settimana e possibilmente negli orari più facili in cui i turisti accedono a queste strutture. Insisterete, Assessore, sulla valorizzazione della Fano Romana che in questi giorni è salita insistentemente alla ribalta? Quando si dice Fano Romana si deve intendere un sistema molto complesso perché Fano Romana è distribuito su tutta la città ed è molto ricca, una serie di sedi, di locazioni, a partire da anche, basti pensare insomma, dal Museo della Via Flaminia, che dà l'inizio ad un percorso di analisi e ricerca dei reperti romani che sono lungo tutta la Via Flaminia. Quindi cosa pensiamo? Pensiamo innanzitutto di valorizzare al meglio il sistema museale fanese, mettendoci anche in collaborazione con i musei privati, il Museo Diocesano e il Museo della Fondazione. Parallelamente stiamo lavorando alla possibilità di rendere fruibile con un biglietto unico, una bigliettazione unica per chi viene da fuori, di tutti i beni dell'antica Roma che sono lungo tutta la Via Flaminia. Grazie.